bisogna andare bisogna andare alzatevi alzatevi andiamo ce la puoi fare Laura alzati dai abbiamo solo 50 ore no ma qua siamo a 21 kg no 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 non è possibile mi rai quando è bella quando è bella ora Laura vai su e cosa vuol dire sono le piante al mattino dai Laura è un palo lei